La volontà, la necessità e la grinta, la voglia, sono affamati di fare e vogliono impegnarsi nella nostra città per il governo della nostra città. Questo è il nostro progetto. Le primarie del Partito Democratico sono uno strumento straordinario proprio per creare punti di incontro di questo genere e adesso inizieremo la nostra campagna non per le primarie ma per le elezioni di giugno e la inizieremo come noi la sappiamo fare, non soltanto su Facebook come tradizione di altri movimenti. Noi abbiamo una caratteristica che è propria del Partito Democratico e di chi tradizionalmente ha fatto politica con le persone in carne ed ossa. Noi andremo naturalmente a rappresentare il nostro progetto tra le persone, i nostri concittadini. Per la verità non è una novità, come sempre abbiamo fatto. Accanto a questo attiveremo evidentemente anche i canali della novità, dell'innovazione perché è anche giusto dotarceli. Sarà un'occasione naturalmente anche per comprendere quali nuove difficoltà si presenteranno per i prossimi dieci anni nella nostra città che sono totalmente diversi. Il mondo è cambiato, il contesto generale è cambiato, è cambiato il contesto generale in cui ci muoviamo ed è cambiata la nostra città di conseguenza. Noi non siamo un'isola felice e avulsa da un contesto problematico più globale, più complessivo. Naturalmente le nostre specificità sono nostre. A noi spetta di conoscerle, di individuarle e di inquadrare le questioni e i problemi. Ma naturalmente a queste nuove questioni, che sono anche nuovi bisogni, nuove difficoltà, soprattutto dopo la crisi che ci ha investito pienamente, tutta l'Italia, non veramente, tutta l'Italia ed è tutto evidente che noi dobbiamo rispondere con proposte nuove perché questi problemi nel 2006 non c'erano e noi abbiamo di fronte invece i prossimi dieci anni che saranno totalmente diversi e non abbiamo la possibilità di affrontarli con il progetto che ci ha accompagnato fino ad ora. Abbiamo non solo nuovi elementi problematici ma abbiamo un altro elemento, nuove opportunità, nuove opportunità sulla programmazione dei fondi europei 14 mesi. E queste nuove opportunità dobbiamo conoscerle e dobbiamo saperle mettere in relazione alle nuove questioni che abbiamo davanti. Non soltanto problematiche, anche nuovi temi, immagino per esempio alle smart cities, cioè alla innovazione tecnologica che deve, già come nella nostra vita privata, deve evidentemente avere la capacità di assistere e migliorare la vita del cittadino più complessivamente dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Sarà una cavalcata lunga, entusiasmante, io non la farò in solitudine evidentemente, non la farò in solitudine e qui non ci sono soltanto consiglieri comunali, assessori uscenti, cioè la tradizione evidentemente è del nostro progetto originario ma ci sono tanti trenta e quarantenni e questo mi fa molto piacere che hanno deciso di metterci la faccia. E il vero rischio della politica in questo momento, viste anche le tante notizie negative che quotidianamente si leggono anche sul piano nazionale, è quella della sfiducia. Il nostro primo compito è quello di riavvicinare le persone perché il vero rischio non è di allontanare gli elettori soltanto, questo è un rischio grande ma non è l'unico rischio, ce n'è uno ancora maggiore e che è una cosa ancora più drammatica, è quello di allontanare le persone dall'impegno in prima persona, mettendoci la faccia. Allora se può servire a qualcosa, e questa è la mia più grande soddisfazione e speranza, è che noi dobbiamo coinvolgere le tante energie, le migliori, oltre a quelli che abbiamo già coinvolto, le migliori che hanno deciso di rimanere a casa perché hanno paura di compromettersi, hanno paura di entrare in un meccanismo per cui chi fa politica in prima persona, chi si vuole impegnare rischia di compromettere la propria immagine delle tante vicende che pur esistono ma sono assolutamente minoritarie in termini naturalmente generali. Da questo punto di vista naturalmente sono in buona compagnia. Queste primarie non devono essere, sono una grande opportunità, e non devono essere sostitutive del congresso del partito. Non è un rapporto di forza all'interno del partito che si deve determinare, per questo ci sono i congressi, e questo non deve essere l'occasione né per anticipare né sostituire i congressi. Ad ogni tempo sarà dedicata una funzione, questo è il momento di mettere insieme le proposte che non verranno solo da noi, ma che verranno anche dai nostri amici del Partito Democratico che si confronteranno con noi fino al 6 marzo. Dopodiché insieme siamo il Partito Democratico, quello che uscirà in termini di elaborazione programmatica sarà patrimonio di tutti evidentemente, ed è del tutto chiaro che il giorno dopo chi risulterà prevalere dal 6 di marzo, dal 7 di marzo di poi, quello sarà il candidato del Partito Democratico e della nostra coalizione. Sul piano programmatico noi partiamo da un lavoro che Marcello Palladino, il nostro segretario cittadino, Mino Mortaruolo, che ci sta raggiungendo, e il nostro sottosegretario hanno fatto un confronto con le associazioni, i corpi intermedi, quindi tutto quello che rappresenta l'articolazione della nostra comunità e in generale della società, il mondo produttivo, ma anche il mondo dei lavoratori. Cioè noi da lì dobbiamo partire, abbiamo già un patrimonio che è a disposizione, chiaramente non mia, a disposizione anche dell'altro candidato, ed è da lì quella è la traccia che dobbiamo seguire, perché è la traccia del Partito Democratico. Naturalmente seguiranno, questo oggi è soltanto l'inizio, il primo passo di questa lunga cavalcata, seguiranno altri incontri, la preghiera naturalmente sempre alla stampa di seguirci con la solita... Naturalmente noi partiamo per questo viaggio, sapendo che alla fine del viaggio che uscirà fuori di una coalizione forte. Grazie, bocca a l'uva a tutti. Tanti giovani, trenti e quarantenni, e non solo, che hanno deciso, insieme a questa esperienza che parte stamattina, di metterci la faccia. Erano persone che non si erano ancora avvicinate alla politica, è la cosa che mi fa più piacere, ed è un elemento di grande soddisfazione che nel percorso di rinnovamento generazionale che mi sta conviato nel Partito Democratico, in cui si conica la traduzione, la storia, ma anche la forza nuova, tutte queste persone. Tutti i ragazzi, i sali, tutte le persone pulite, hanno deciso, attraverso questa mia candidatura, di metterci la faccia. Naturalmente ci mettono la faccia insieme al Partito Democratico, è un partito che ha un po' più importante, che non è soltanto quello di andare a governare, la città di Benevento, dalla prossima primavera, ma ha un compito di saper incarnare una speranza per il futuro della nostra comunità. Questa è una grandissima soddisfazione, la caratteristica principale che ha accompagnato questa mia formalizzazione, che non è un solitamento, non è soltanto in vista di nessuno, ci sono, come avete visto, come avete potuto anche documentare, ci sono tanti giovani adesso che come si può rincorrere la strada fino al governo come c'è parte. C'è anche una grande esperienza, c'è una grande volontà di... c'è una grande volontà di... c'è una volontà di voglia, di... il progetto che ci accompagniamo negli ultimi dieci anni è stato un progetto di cui io ho fatto parte direttamente. Nei prossimi dieci anni è un nuovo progetto, durante le nostre ideali, il diretto, il quadro politico che ci accompagna e che noi ci vogliamo per dire da questo interesse così come è un interesse per il tempo quotidiano rispetto a... noi siamo stati protagonisti e dobbiamo essere protagonisti sapendo modellamente interpretare anche nuove esigenze, nuovi problemi che soprattutto alla crisi degli ultimissimi anni ci vuole davanti. Dobbiamo saperlo fare con una capacità di dare ricette nuove, trovare nuove soluzioni e naturalmente sappiamo che nella Nazione 2014-2020 che governerà appunto i prossimi anni abbiamo anche nuove opportunità e dobbiamo avere la capacità di coniugare i nuovi problemi e collegarli con le nuove opportunità. Questo è un contito che noi abbiamo, è un contito che siccome siamo una filiera istituzionale che collega al governo nazionale, a quello provinciale, a quello cittadino, la maggiore responsabilità adesso ce l'abbiamo. Dobbiamo saperlo intervistando. Grazie.